Buongiorno, abbiamo con noi in studio il segretario di sinistra italiana Nicola Fratoianni, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Siamo ormai alle battute finali della campagna elettorale. Io, come lei sa, le porrò delle domande del Corriere della Sera, ma anche dei nostri lettori. Vorrei cominciare con una domanda che ritengo d'obbligo. Che speranze avete, che prospettive avete di superare il 4% e arrivare al Parlamento europeo? Siamo non solo speranzosi, vorrei dire certi che supereremo abbondantemente il 4%. Gli ultimi sondaggi pubblicabili, quelli della settimana scorsa, unanimemente, ci danno abbondantemente sopra questa soglia. È stata una crescita continua che si è andata consolidando negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, senza mai avere un'oscillazione negativa, sempre in avanti. Ma soprattutto sentiamo nel Paese, nella campagna elettorale che stiamo facendo senza sosta, io, Angelo Bonelli, complessivamente, le candidate e i candidati, non solo una grande attenzione, ma anche una grande spinta di interesse, di curiosità positiva attorno alla nostra proposta politica, alla nostra lista. Alleanza Verdi e Sinistra, io credo, sarà una sorpresa positiva di queste elezioni europee. Senta, le giro la prima domanda che ci è arrivata, che ce la pone Antonio Chiaromonte. Con un presidente come Putin, spregiudicato e inaffidabile, non credete che uno dei presupposti per la pace con l'Ucraina sia quella di mostrare a tale bullo che la forza militare di Europa è nata e quindi un inevitabile riarmo? Vorrei rispondere a questa domanda chiedendo a chi l'ha fatta di provare a ragionare insieme su quello che sta accadendo ormai da oltre due anni, da quando Putin, in modo brutale e violento, ha scatenato la sua guerra di invasione contro l'Ucraina. Si è detto all'inizio che la risposta militare era necessaria e serviva per costruire sul campo l'equilibrio necessario affinché una trattativa potesse effettivamente svilupparsi e farlo su basi giuste. Lo ricorderete, tutti e tutte era stato questo il mantra, anche nei confronti di chi come me, come noi, aveva subito detto attenzione perché l'escalation militare rischia di allargare il conflitto e di non offrire soluzioni. Dopo due anni e mezzo, a me pare che quello che sta accadendo confermi che aver investito solo sul mostrare la forza e i muscoli all'autocrate di Mosca non abbia funzionato. La guerra sta continuando ad allargarsi, è sempre più terribile. Ci avviciniamo ogni ora che passa sempre di più al baratro di una guerra frontale, globale, magari persino nucleare. Io credo che il fatto che in questi due anni e mezzo alle tante armi che si sono susseguite non abbia però fatto seguito neanche l'apertura di una discussione sulla pace, di un'iniziativa diplomatica che è completamente scomparsa, scomparsa dalla scena, dal dibattito, perfino dal vocabolario. Ecco, io credo che tutto questo sia molto preoccupante. Allora penso che oggi sia arrivato il momento che innanzitutto l'Europa, come soggetto politico, se esiste e se vuole esistere anche nel suo futuro, prenda un'iniziativa, chiami le grandi potenze, i grandi player, Stati Uniti, Cina, ad un'iniziativa comune perché si costringa Putin a fermarsi e perché si costruisca un'idea di uscita diplomatica. Mi pare che ormai sia evidente che la strategia fondata esclusivamente sulla forza e sull'escalation militare semplicemente non funziona. Secondo lei perché il segretario della Nato Stoltenberg due giorni fa ha voluto rilanciare con una dichiarazione ancora più forte e quindi addirittura chiedendo che si possano utilizzare le armi anche in territorio russo, quelle che appunto gli alleati stanno dando all'Ucraina? Francamente non so rispondere, non sono nella testa di Stoltenberg. Quello che so però è che quelle parole sono parole molto pericolose che accendono ulteriormente il fuoco dell'escalation, sono un altro salto di qualità. Bene che diversi paesi abbiano subito tirato il freno e Stoltenberg dovrebbe pensare bene prima di parlare perché non decide lui, la Nato è un'alleanza fatta da tanti paesi che su alcune questioni hanno, debbono avere voce in capitolo. Qui il punto torna a quello della risposta precedente. Dovrebbero tutti fare i conti col fatto che o si decide di entrare direttamente in guerra contro la Russia, io considero questo scenario catastrofico, terribile, neanche pronunciabile, oppure serve un'iniziativa che comincia ad indicare una via d'uscita diplomatica. Mi pare evidente che altrimenti da un'escalation all'altra il rischio è quello non solo di non costruire la pace ma di peggiorare di molto la condizione di tutti e tutte, degli ucraini e naturalmente dei russi ma soprattutto del mondo intero, dell'Europa. La Presidente Meloni, i vicepremier Salvini e Tajani hanno appunto anche loro molto criticato le parole di Stoltenberg. Almeno in questo si può dire che i partiti italiani sono più uniti? Bene che le abbiano criticate quelle parole perché ripeto sono parole avventate e sono parole che chi rappresenta un'organizzazione come la Nato, che ripeto non è un'organizzazione autonoma che decide sulla base di non si sa quale principio autonomamente che fare ma che è un'alleanza di paesi, di molti paesi, non può permettersi di farlo in quel modo, nel modo con cui lo ha fatto. Quindi bene che siano arrivate queste parole, è un fatto positivo, spero però che a quelle parole segua un'iniziativa. È davvero questo quello che manca. Mi pare incontestabile anche sulla base di chi ha sostenuto che comunque le armi andavano inviate. Noi come è noto dal primo momento, quando persino il Movimento 5 Stelle votava a favore abbiamo sempre con coerenza votato contro l'invio delle armi. Ma non perché siamo genericamente pacifisti, anime belle, perché avevamo visto questo pericolo. Avevamo visto il pericolo di una strategia che fondata esclusivamente su quel terreno non avrebbe portato ad una soluzione, anzi avrebbe rischiato di allontanarla. Allora noi chiediamo che oggi ci sia un cambio di passo. Cominci a fare il governo italiano, ponga questa questione all'Europa, l'Europa diventi protagonista, altrimenti l'Europa rischia di scomparire, perché di fronte alle grandi contraddizioni e conflitti che agitano nel mondo intero, se l'Europa non ha una voce, una voce unica, in grado di segnalare la sua autonomia e un suo progetto di governo del mondo, di riforma dei luoghi e degli strumenti di governo delle contraddizioni a livello globale, l'Europa semplicemente rischia di perdere di senso e quindi progressivamente di scomparire. Ieri il ministro Grosetto è stato molto duro anche su Israele, la stessa presidente Meloni ha detto che appunto Israele rischia di rimanere vittima della strategia di Hamas. Lei come la vede? Bene, però qui le parole non bastano più. Occorre che il governo italiano faccia qualcosa. Lo abbiamo chiesto in più e in più occasioni in Parlamento con atti concreti, di soluzioni, emozioni, hanno sempre respinto la nostra richiesta. Intanto il governo italiano riconosca lo Stato palestinese, perché non si può fare come ha fatto Giorgia Meloni, come hanno fatto molti esponenti del governo, cioè venire in Parlamento e ripetutamente dire che la posizione dell'Italia è per due Stati e per due popoli. Ma se uno di quei due Stati non esiste, perché siamo i primi a non riconoscerlo, è evidentemente il frutto di una costruzione ipocrita, quello che continua a sostenere che quella sia la via d'uscita, senza che però segua alcun fatto concreto. Spagna, Irlanda, Norvegia hanno annunciato che nelle prossime ore, nei prossimi giorni attiveranno le procedure per il riconoscimento. Da molte parti viene questa richiesta, perché anche questi gesti, queste scelte, che non sono immediatamente la fine della guerra, il cessate il fuoco, non sono in grado immediatamente di impedire al governo di Benjamin Netanyahu di continuare col massacro indegno di civili, di impedire il genocidio che si sta compiendo sulla pelle del popolo palestinese a Gaza. Però sono gesti che possono cominciare a costruire il segno di una diversa modalità di affrontare questa vicenda. Io penso che sia arrivato il momento di far seguire alle parole dei fatti concreti. E in Europa voi contate di farlo, di trovare appunto un'alleanza semmai più larga per portare avanti questa battaglia? Sì, pensiamo che l'Europa sia il soggetto, il soggetto che può giocare un ruolo. Intanto cominciando anche a far funzionare gli strumenti di cui dispone, esiste tra Europa e Israele un trattato di associazione, si chiama così perché ci sono relazioni tra l'Unione europea e paesi terzi che sono regolate da specifiche forme di collaborazione. Quel trattato contiene un articolo, l'articolo 2, che esplicitamente chiede che venga interrotto e sospeso quando si è di fronte a una violazione dei diritti umani. Che cosa deve succedere ancora? Perché per esempio vengano messi in campo strumenti come questi. Non si tratta genericamente di dire che nessuna collabora si rompa, ogni relazione detta così non vuol dire niente, ma ci sono degli strumenti che possono aumentare la pressione. Noi siamo di fronte a un governo, quello di Netanyahu, che ogni giorno non solo si rende complice e responsabile in prima persona di orrendi crimini di guerra e di crimini contro l'umanità, ma che sta col suo comportamento rendendo ogni giorno più insicuro il futuro del proprio popolo, del popolo israeliano e di tutta un'area, quella medio orientale, che avrebbe bisogno di ben altre politiche per costruire una via di pace che la faccia fuoriuscire dal circuito della violenza, dell'odio, che rischia altrimenti di alimentarsi per un ciclo di tempo infinito nelle future generazioni. Insomma, serve un cambio di passo. Senta, lei sa bene che la vostra decisione di candidare l'Aria Salis ha trovato consenso ma ha anche generato molte, molte critiche. Noi abbiamo moltissimi lettori che ci hanno scritto. Io ho cercato di appunto assemblare questi quesiti, gliene leggo tre, così poi lei mi può dare una risposta generale. Ci scrive Francesca Chillaci, che valore aggiunto può dare una candidatura come quella di Ilaria Salis a un soggetto di sinistra come il vostro? Marta Marchini scrive invece, non le sembra che l'operazione Salis, nata come azione umanitaria per salvarla dal carcere duro ungherese, si sia tramutata in una leva per attrarre consensi e quindi superare lo sbarramento del 4%? E ancora, Giacomo Di Paolo, che senso assume la candidatura politica di Salis dopo che è stata scarcerata? Ha ancora la stessa valenza questa candidatura? Provo a rispondere alle tre questioni che emergono da queste domande. Primo, dicendo perché abbiamo fatto questa scelta? Perché abbiamo scelto di mettere a disposizione le nostre liste, quelle di Alleanza Verde e Sinistra, il posto di capolista nel collegio più grande, quello del Nord-Ovest per Ilaria Salis. Lo abbiamo fatto perché noi siamo convinti che la politica possa ancora essere utile, servire a qualcosa. Possa servire in questo caso a intervenire su una condizione umana particolarmente complicata per far sì che i diritti umani fondamentali di Ilaria vengano rispettati e non continuamente violati come è accaduto per troppo tempo nelle carceri di Budapest e dunque possa diventare uno strumento utile a cambiare concretamente la sua situazione. E abbiamo visto che ha funzionato alla faccia del silenzio rivendicato dal governo della maggioranza, che ha provato a prendersi il merito di un ricorso che avevano fatto i legali di Ilaria Salis, non il nostro governo, per come era detenuta in un regime durissimo, per come era stata trattata in carcere, per come era stata portata più volte nelle aule dei tribunali con le catene e i ceppi. La politica può servire, ma può servire anche e soprattutto a fare in modo che quello che è accaduto a Ilaria non accada mai più a nessuno. Perché vede, Fiorenza Arzanini, io penso questo, se di fronte alla violazione sistematica dei diritti umani fondamentali, dei diritti civili, dei diritti ad un giusto processo, dei diritti fondamentali, per una persona come Ilaria, ci voltiamo dall'altro lato, dobbiamo sapere che domani questo può accadere a ciascuno e a ciascuna di noi. Se in un paese dell'Unione può succedere a una cittadina, in questo caso italiana, ma potrebbe essere di un altro paese, quello che è successo a lei, allora domani può succedere a tutti e a tutte. E io non voglio, noi non vogliamo che l'Europa di domani sia un'Europa in cui è possibile che in uno dei suoi paesi i diritti fondamentali vengano violati in modo così palese, così clamoroso. Certo che la candidatura di Ilaria è anche una candidatura che ha tratto consenso, noi supereremo ampiamente il 4%, ma questa è anche la condizione perché quella candidatura risulti efficace rispetto alla sua condizione e alla dimensione più generale che evoca, che appunto prima indicavo rispetto all'Europa di domani. E no, infine, non penso affatto che il fatto che sia uscita dal carcere, Ilaria non è libera, non è stata scarcerata, è ancora detenuta, solo che per fortuna, per sua fortuna non più nell'antico carcere di Budapest, ma in un domicilio, alle arresti domiciliari, ma ancora rischia 24 anni, 24 anni di carcere per un reato che nel nostro paese non avrebbe fatto neanche partire un processo. È accusata, è accusata, perché siamo alla carcerazione preventiva da oltre 15 mesi, di lesioni guaribili in 5-8 giorni e rischia 24 anni di galera. No, non è per niente finita, la battaglia anzi è una battaglia che va condotta fino all'ultimo giorno con tutti gli strumenti necessari perché l'area venga eletta e perché la sua elezione sia per lei una cosa importante, ma ripeto, per tutti e tutte noi, per l'Europa che vogliamo. Ed è una battaglia che si deve fare anche nei confronti di Orban, che diciamo è un presidente amico del nostro governo, ma che appunto sui diritti umani ha mostrato anche altre volte di non essere proprio nel pieno rispetto delle regole, diciamo così? Senza dubbio, Orban è amico del nostro governo, è amico di Vladimir Putin, è nemico della democrazia, dei diritti, dei diritti delle minoranze, dell'autonomia della magistratura, dell'autonomia della libertà, dell'informazione. Orban e l'Ungheria di Orban, quel modello di società è nemica della costruzione di un'Europa che sia invece vettore di liberazione, di allargamento dei diritti, di miglioramento della condizione della vita di tutti e tutte, della qualità della democrazia. Quindi sì, certo, anche contro quel modello, quel modello di società che io considero incompatibile con i valori di un'Europa che appunto debba invece investire in tutt'altra direzione. Ci chiede Monica Maffei, come vedete l'eventuale spostamento a sinistra dell'asse del PD che i riformisti DEM tanto temono? Potrebbe andare a erodere una parte del vostro consenso? No, non lo penso, non è mai successo nella storia delle elezioni, né sul terreno materiale, quando cresce un'area politico-culturale cresce tutta, poi ciascuno con le sue proporzioni, con le sue dinamiche e quindi non mi preoccupa sul piano concreto, non mi preoccupa per nulla sul piano politico, è una domanda che mi viene rivolta spesso, mi viene chiesto se il PD, Elish Line o Conte, su alcune cose si spostano a sinistra, questo la preoccupa? No, questo mi rende molto felice perché io non faccio politica per ritagliarmi un monopolio, per alzare una bandiera e dire sono io che la porto quella bandiera, sono il più bravo e sono quello più duro e più puro, non me ne frega niente, io faccio politica perché penso che la politica possa cambiare la vita delle persone, io penso che oggi si debba far politica perché è necessario alzare gli stipendi in un paese come il nostro, è necessario ricostruire una sanità pubblica che garantisca il diritto alla cura, perché voglio l'istruzione gratuita, perché voglio la conversione ecologica, perché voglio la pace, se su questi temi, su queste questioni cresce un fronte, diventa più largo il fronte di chi si batte in quella direzione, io non posso che essere contento perché vuol dire che si avvicina il momento in cui la politica appunto può essere in grado di migliorare la vita della maggioranza. Intanto sta crescendo il fronte dei sindaci, sinistra, destra, sono tutti uniti nel chiedere al governo di non tagliare i soldi, peraltro soldi del PNRR, quindi per i comuni sono fondamentali proprio per quei servizi di cui lei stava parlando, la sanità, la scuola. Voi che cosa pensate di fare adesso e appunto in Italia e poi in Europa per cercare di proteggere proteggere e difendere questi finanziamenti che sono per molte città fondamentali immagino? Intanto bene, molto bene che ci sia una reazione da parte dei sindaci di questo paese, delle sindache di questo paese. Le città sono il primo fronte, sono il punto più esposto, sono il punto più esposto non solo perché lì è più diretto il rapporto con i cittadini e con le cittadine, ma perché lì si organizza la qualità della vita delle persone, da moltissimi punti di vista, dalla mobilità, dal diritto alla salute, all'istruzione, dal diritto all'abitare, altra grande emergenza di questo paese, su cui per esempio la destra ha cominciato a tagliare, a sforbiciare fin dal primo giorno. Appena sono arrivati hanno fatto un'operazione che ha svuotato il fondo di sostegno per gli affitti, per l'amorosità incolpevole, per trasferire quei 300 milioni alle società di calcio di Serie A. Pensate che cosa incredibile di fronte a un paese nel quale cresce povertà, diseguaglianza, in cui il diritto all'abitare è sempre meno garantito, si svuota ciò che serve ad aiutare chi è più in difficoltà per trasferire quei soldi a chi ne ha già tantissimi. Dunque io penso che sia necessario battersi nel paese, in Parlamento, a fianco dei sindaci, dell'amministrazione comunale e in Europa, anche per garantire che i fondi del PNRR, cioè della declinazione nazionale di quel piano che era nato con un nome splendido, Next Generation EU, nuove generazioni d'Europa, non c'era nome più bello per chiamare un piano che interrompeva la stagione dell'austerità, metteva insieme debito, ma anche bisogni, speranze di questa Europa per ricostruire sistemi di protezione, per prendersi cura della vita delle persone nell'onda, nel piano dell'onda della pandemia. Allora in Europa, per garantire che quella evocazione non sia fino in fondo tradita e poi in Italia e in Parlamento per impedire che il Governo lo faccia. Ci batteremo con gli strumenti della politica e con la forza che ci daranno i cittadini e le cittadine anche l'8 e 9 giugno. Lei come la pensa sul redditometro? Sarebbe stato giusto metterlo subito? Vedete, il redditometro è un'altra di quel temo, insomma ormai, anzi, sono quasi certo che è un'altra di quelle cose, come è capitato con la tassa sugli extraprofitti delle banche, su cui avrei potuto dire, brava Giorgia Meloni, hai fatto una cosa giusta, ma purtroppo poi non l'ha fatta. Io penso che il redditometro sia uno strumento che è difficile contestare. Poi ogni strumento, intendiamoci, può essere più efficace, tarato meglio, tarato peggio, applicato nel modo giusto, nel modo meno giusto, ma trovo incredibile che ci sia una sorta di reazione isterica di fronte a uno strumento che ha un obiettivo semplice. Misurare la congruità che c'è tra quanto io, lei, ciascuna di noi dichiara al fisco e il mio, il suo e di ciascuno è uno stile di vita. È evidente che se io dichiaro 10.000 euro l'anno è difficile che possa permettermi uno stile di vita che ne richiederebbe 10 volte tanto. E allora il redditometro serve a questo. Giorgia Meloni dice che noi non faremo mai un fisco invasivo nella vita delle persone. Temo che nella vita delle persone, dell'italiano e dell'italiana della maggioranza, sia molto più invasivo, come dire, ed è un'invasione che deve essere molto urticante. Fare i conti con servizi che non funzionano, con una mobilità che scoppia, con una sanità che non garantisce più il diritto alla salute, con un'istruzione che diventa sempre più, anche qui, un privilegio invece che un diritto universale. Oggi mandare un figlio all'università per molte famiglie è diventato impraticabile. Impraticabile perché i costi sono esplosi da ogni punto di vista. Ecco, quella è un'invasione della vita delle persone di, diciamo, pessima qualità. Senta, ci scrive Marco De Luigi. Mimmo Lucano, Leo Luca Orlando e Ignazio Marino non sono persone che arrivano direttamente, prettamente dalla vostra esperienza politica. C'era bisogno di esterni per presentare persone di sinistra? No. Mimmo Lucano, peraltro, ha una lunga storia che incrocia le battaglie di cui ci siamo sempre occupati. Forse questa relazione è meno stretta con gli altri due nomi che lei ha fatto, Ignazio Marino e Luca Orlando, che però sui nodi fondamentali che sono il cuore del nostro programma politico e anche sono la ragione che ha fatto nascere e consolidare con continuità alleanza verde e sinistra. Ecco, voglio fare solo una parentesi. Noi non siamo solo un'alleanza elettorale, siamo un progetto politico che, a differenza di altri, dopo il 25 settembre del 2022 non solo non è scoppiato, non abbiamo cominciato a litigare, non ci siamo divisi, ma si è rafforzato, ha dato continuità, ci siamo presentati in tutte le elezioni successive e siamo sempre cresciuti. Perché? Perché abbiamo indicato il cuore del problema, cioè la relazione tra la pace, la giustizia ambientale, la giustizia sociale, la difesa, la tutela dei diritti fondamentali delle persone. Su queste questioni, queste personalità, queste figure, sono personalità e figure che non solo hanno speso una parte della loro vita, ma che hanno un punto di vista che è del tutto, del tutto interno a questa impresa politico-elettorale e culturale. Quindi in questo senso rappresentano dal mio punto di vista un fatto molto importante. Anche il fatto che l'alleanza verde e sinistra sia sempre più considerata una proposta politica attrattiva e credibile. E io mi auguro, anzi ne sono certo, che questa valutazione sarà anche quella di molti elettori e di molte elettrici nelle prossime elezioni. In queste ore Matteo Salvini, ma anche altri, stanno facendo una campagna meno Europa più Italia. Lei se la sentirebbe di dire più Europa e meno Italia o comunque quale deve essere diciamo il ruolo che voi ritenete ideale di appunto parlamentari italiani che poi vanno in Europa. Intanto mi faccio dire che trovo questa campagna per alcune delle scelte che l'hanno caratterizzata indecente. Indecente, offensiva, offende la vita delle persone in carne ed ossa. La trovo terribile e poi la trovo pericolosa sul piano politico-culturale perché pericolosa è anche frutto di un imbroglio nei confronti dei cittadini e delle cittadine. Io voglio più Europa, più Europa, ma non perché voglio meno Italia. Voglio più Europa perché so che oggi avere più Europa, cioè un'Europa che esiste, che allarga le sue competenze, che è più coesa, che costruisce politiche non solo monetarie ma politiche fiscali, politiche del lavoro, politiche dei diritti, dell'istruzione, della sanità, della difesa comuni. È un'Europa in grado di affrontare le grandi sfide che abbiamo davanti. La transizione ecologica, una transizione ecologica giusta, cioè che sia pagata da chi in questi anni ha sviluppato enormi ricchezze, non dalle aree più fragili della società europea. La transizione digitale, le grandi sfide dell'intelligenza artificiale, dell'automazione, si affrontano se si ha una proposta e un progetto politico a quel livello e così ovviamente per il tema enorme della pace della guerra di cui abbiamo lungamente discusso fino a poco fa. Se l'Europa non sarà più capace di svolgere un ruolo su tutte queste questioni avremo enormi problemi anche nel nostro paese. Se l'Europa per esempio non costruisce, noi vorremmo uno statuto dei diritti del lavoro europeo, vorremmo diritti più alti e più omogenei in Europa. Per esempio per contrastare il fenomeno del dumping salariale. Quante volte abbiamo nella cronaca discusso contriti di fabbriche, aziende che magari sono inattivo, chiudono i battenti in Italia, lasciano sulla strada e sull'astrico cancellando il loro futuro migliaia di lavoratori e di lavoratrici perché vanno in un altro paese dell'Unione dove magari il costo del lavoro è più basso, dove c'è un margine di profitto maggiore. Io penso che noi dobbiamo costruire un'Europa che queste cose non le consenta e se lo facciamo proteggeremo anche l'Italia, anzi consentiremo all'Italia, agli italiani e alle italiane di vivere meglio e di affrontare meglio i problemi che hanno. Se invece continueremo a fare dell'Europa un oggetto polemico su cui raccattare qualche voto, anche con qualche pubblicità di cattivo gusto, faremo un grande danno all'Italia. Non c'è meno Europa e più Italia. Se vogliamo più Italia abbiamo bisogno di più Europa. Senta, siamo all'ultima domanda. C'è un appello, un aspetto, un argomento che lei ritiene fondamentale per convincere gli italiani a votarvi? L'Europa della pace è l'Europa che non solo si batte contro il mostro della guerra, ma è l'Europa che costruisce politiche economiche non segnate dalla guerra e in grado di allargare la sfera dei diritti, di investire sulla giusta transizione, di intervenire, di prendersi cura della condizione materiale della maggioranza degli elettori e delle elettrici. Noi su questi temi abbiamo una proposta, ma abbiamo anche la coerenza di un comportamento, che è quello che ha contraddistinto le nostre scelte non solo in questa legislatura, ma anche in quella precedente e continuerà a contraddistinguerle anche nel Parlamento europeo. Credo che queste ragioni valgano un voto e la fiducia che chiediamo l'8 e il 9 giugno. Grazie segretario, buona campagna elettorale. Grazie, grazie molto. Grazie a tutti.